Salva Milanima è il titolo del libro di Serena Manfret che verrà presentato domani pomeriggio a Messina nella libreria d'Oralisce. Un appuntamento per discutere il percorso della scrittrice giornalista tra le pagine del suo romanzo. Un viaggio salvifico che questi personaggi compiono alla ricerca della loro felicità, tra virgolette, perché sappiamo che la felicità, insomma, molti dicono che non esista, in effetti può esistere in alcuni momenti concreti della vita. E loro quello che fanno è cercare di scoprire quelli che sono i loro desideri e lo fanno seguendo da una parte l'amore, che è quello che li spinge a ritrovare i loro desideri e che li fa andare avanti in questa ricerca. Dall'altro c'è lo spunto della psicanalisi, che è una cosa nella quale io credo profondamente.